Grazie a tutti Sabato scorso la vittoria del Batumi in Continental Shields e poi in questa settimana così particolare perché vede la nostra squadra i bersaglieri affrontare al plebiscito, questa è un'informazione importante, quando noi andiamo dall'altra parte dell'Adige giochiamo sempre al plebiscito nel secondo turno in Continental Shield contro il Petrarca Padova Passo indietro, sabato scorso, vittoria col Batumi, Jacques, sabato una vittoria molto importante contro la squadra georgiana Sì, secondo me anche perché loro hanno tantissimo fisica e poi la nostra squadra nel secondo tempo gioca un altro livello di rugby Io sono contento per noi perché noi cambiamo la mentalità per il secondo tempo e gioca meglio, gioca insieme con una squadra No, anche un po' i giocatori giocare per noi c'è giovani, due o tre posizioni ma con Batumi noi visto, loro c'è voglia, voglia per giocare, giocare in fisica anche Sì, contento per i vittori Abbiamo citato la sfida nel secondo tempo, quindi Paolo, un secondo tempo che ha reso felici i tifosi rosso-blu dopo una settimana travagliata Irovigo che tutti i supporter vogliono vedere Sì, li ha resi sicuramente felici e magari anche sorpresi perché dopo quel primo tempo, non so, come ha detto tra l'altro McDonnell subito dopo Non so in quanti si sarebbero aspettati una reazione di quel genere Era la classica partita due facce, possiamo dire il primo tempo un po' dominati dagli avversari E poi durante l'intervallo ci dirà già che cosa è successo, però una squadra trasformata che è ritornata in campo E arriva al dato una partita che li vedeva sotto 22 a 10 nel primo tempo Secondo tempo è finito 21 a 5 per Irovigo, quindi dai numeri si capisce come è stato appunto capovolto tutto quanto Tutti gli equilibri della partita E era la prestazione che ci voleva anche dopo Sandonà Quindi insomma si sono un po' sistemate le cose dopo quel passo falso Ecco tu giustamente dici, ma sentiamo da Jacques, capitano di giornata, cosa hai detto ai ragazzi tra il primo e il secondo tempo? Se si può dire Magari due parole no Che immaginiamo? No, quando noi entrai in Spogliettoio per il secondo tempo, anche io dici, tutti giocatori, anche io ho fatto errori Anche io manco un placaggio per un meta, è normale per errore, ma è come tu dopo errore, come tu, come si dice, si and fix it E poi io dici a tutti i giocatori, guardami in occhi e oggi deciso per cambio o no E poi noi parlare tantissimo, onestà con un'altra, tutti i giocatori dicono adesso noi vogliamo cambio e poi cambio per il secondo tempo Ma è una decisione insieme con tutte le squadre, per questo io contento, non solo uno, due, tre giocatori ma tutti, tutti i giocatori Dicevi prima, il Battumi è una squadra molto fisica, molto molto fisica Sì, secondo me no, tanti skill, ma più fisica, più duro quando correre, sempre correre dritti, fare finta, tipo cosa, ma no, allora fisica è... Una squadra sudafricana, sui certi aspetti Sì, sì, un po' sì, sì Perché anche io manco i primi placaggi per il meta, dopo ho rilassato, è loro fisica E poi i placaggi, i dritti, ma... Anche perché non sapevamo molto del Battumi, non conoscevamo il Battumi Sì, perché anche prima settimana, settimana fa, noi non guardare niente video, noi non preparare per loro Perché loro c'è niente con YouTube, con internet E poi, non so come loro giocavano, lo sapevo un po' fisicamente, ma niente un'altra Quindi forse avevamo bisogno di vedere il primo tempo per capire come loro giocavano per poi reagire Sì, sì, è vero Questo, Paolo, è una bella analisi che fa Jacques, negli spogliatoi sono guardati tutti in faccia E ha detto, questo è il momento del cambiamento, questo è il momento di fare uno step più avanti per tutta la squadra E ci sono riusciti insieme, un bel segnale È un bel segnale, soprattutto perché la stessa cosa non era riuscita una settimana prima a San Donà Perché la partita era iniziata male là, ma è finita anche male Qui era iniziata male, invece poi sono riusciti a capovolgerla Quindi è un bel segnale, non solo dal punto di vista della vittoria e del risultato, della classifica e poi della competizione Ma anche proprio a livello psicologico, insomma, per la squadra E poi è stato bellissimo Jacques in campo vedere quando inizia a placare duro, i doppi placaggi Ma ovviamente in campo tutti i giocatori si caricano molto, no? Sì, sì L'energia cambia anche tutti i giocatori Per me, i giocatori rilassati e noi non cambiamo Il resto è molto difficile E poi tutti i giocatori desiderano Adesso cambio, puoi fare i placaggi E prima, i primi basi skills Placaggi, puoi correre e poi passaggi E la partita cambio e noi vinto, siamo contento Semplice Semplice Nella puntata di oggi La sconfitta di soli quattro punti del Petrarca in Romania Il team in Shohara Succursale dei Saracens, lo sappiamo Per cui, insomma, qualche risultato che ci ha un po' lasciato così Sì, è stata una prima giornata un po' anomala Comunque con più di qualche risultato non pronosticato E soprattutto quello appunto del Petrarca che perde solo di quattro punti In casa dei Saracens E che conferma comunque che il Petrarca che andremo a incontrare sabato È una squadra che anche alla Coppa ci tiene, insomma ci tiene bene E poi soprattutto i tedeschi dell'Eidelberger che battono Calvisano Sfido di trovare qualcuno che poteva pronosticare un risultato di questo tipo Perché sono la stessa squadra che nelle precedenti edizioni della manifestazione Non dico che era vista un po' come la squadra Materasso Però, insomma, veniva vista una spanna sotto le altre Per cui, quello che ci ha detto questa prima giornata È che in tutti e due i gironi le situazioni sono abbastanza livellate Abbastanza equilibrate Anche le cifre lo dicono perché di quattro partite Tutte le squadre sconfitte sono riuscite a portare a casa il punto di bonus Che è una cosa abbastanza singolare Per cui anche a guardare le classifiche dei due gironi Non c'è una squadra a zero punti E questo ci fa intuire che anche andando avanti con il torneo Insomma, ci sarà da lottare in ogni singola partita Questo è un bene anche per lo spettacolo stesso Sì, sicuramente Ma il secondo obiettivo Piccolo inciso sulla squadra tedesca In realtà poi loro adesso sono pieni di nazionali tedeschi Sono un po' di sudafricani anche dentro Quindi potrebbe essere anche una sorta di sorpresa Sì, l'ha detto subito Brunello Il coach del Calvigiano Che è una squadra completamente diversa Quella che aveva partecipato alla terza Coppa Le scorse stagioni Poi insomma si inizia anche ad avere qualche notizia Si sa che dietro c'è un magnate Con un bel po' di fondi da investire E i risultati si vedono insomma Allora, andiamo a vedere subito gli highlights della vittoria Contro il Batumi di sabato scorso della FEMCZ Rugby Rovigo Delta Dopo tre anni dai caucasi al Tbilisi Altra squadra georgiana sul cammino europeo della FEMCZ Rugby Rovigo Delta Da frontari e bersaglieri nella prima giornata I Continental Shield e il Batumi Attualmente terzo nella DD10 e vice campione in Georgia Benvenuto Antonio Buon pomeriggio, grazie Andrea, buon rugby Cocchi vanizze E vanizze I due piloni Nel frattempo arrivano i primi tre punti del match Bianco azzurra Nel cuore dei 22 Fuori per Sandro Palla che cade Comunque è buona Per fortuna non gliel'ha data Il talonatore Giorgiano c'è la meta I punti necessari Cobachizze dalla piazzola Stavolta non entra Per cui lo scorre resta 8-0 Ujasvili Il primo centro Ottime gambe del flanker Giorgiano E c'è la seconda meta Cobachizze Uno su due Per lui Per l'estremo Stavolta diventa due su tre Ortiz Non contrastato E' buona La presa E' l'abbrivio anche da FNCZ Rugby Rovigo Delta Piano Riescono piano piano ad avanzare Pasini Ci prova lui Meta tecnica Meta tecnica Rovigo Piede perno Brugnaresco 3-2 3-2 Però non abbiamo Tenuto le buone linee di corsa Ancora Pasini Non usciamo Questa è recuperabile Bene Deve giocare Rovigo Deve cercare di velocizzare il più possibile Odiete Denis Mestorovic Per Zanini Palle indietro Non c'era forse nemmeno tanto spazio Questa squadra Da tirare su Mantelli Centrale Bandini in assù Nella cella Giorgiana che si era staccata C'era anche un rosso-blu in mezzo Quindi non si creava la situazione di Muro eventualmente Letta perfettamente la giocata con L'interno La accelera l'apertura E c'è la meta Ci rientri con mezzo Forse anche meno di mezzo Perché qua potrebbe andare a 22 Così è Ha una doppia possibilità Vediamo Pasini Va ad attaccare ancora la chiusa Ci prova Pasini Buono scarico per Biffi e c'è la meta di Rovigo Molto bene Vediamo Mantelli A trasformazione E c'è, e c'è, e c'è, e c'è Forza Rovigo Delle sicurezze perché hai poca pressione Però Come vedi quando È stato il momento di usare il drive Loro si sono fatti sentire Buco di Denis Mestorovic Il sostegno di Jordan Davis Denis se ne va Maestrovic se ne va Maestrovic se ne va Maestrovic se ne va Mette in mezzo i palli Della FEMICZ Rugby Rovigo Delta Finalmente Antonio Sulla sua strada E mette un pallone In meta Il nostro Il nostro drive Ancora a terra Ortis Momber col pallone Alla fine del drive Prova a andare là E questa è easy Chiusa Massimo Ciaffi Il tre quarti che Giustamente e puntualmente È stato attaccato Da Erodisili E Matteo sta tornando in pista C'è vantaggio nel frattempo Per Battumi Col pallone in mano Abujashvili Meta Ottimo il pallaccaggio Rubata 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 Calcia fuori definita Calcia fuori definita Calcia fuori definita Finisce il match La FEMICZ Ragby Rovigo Delta Batte il Matumi Per 31 a 27 Partita di grande sacrificio Da FEMICZ Da FEMICZ Sì 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 Perché quando giocare in eccellenza Secondo me italiani giocatori Giocare in uno mondo Tipo correre ma non correre dritti Più correre con i sidestep Fare un'altra cosa Quando giocano tra gli stranieri Tipo Battumi Loro giocano come i surafricani E poi è interessante È interessante Ma è una bella partita Certo Paolo Questa Coppa Europea Dicevamo Questa concorrenza Questa competitività Aumenta di fascino È più piacevole Seguirla E effettivamente Noi abbiamo sempre avuto un problema A Rovigo Che quando arrivavano anche le grandi Squadre straniere In Challenge Non c'è mai stato un grosso seguito Non abbiamo mai supportato al massimo Questa competizione Magari L'essere in corsa Per le finali Per un posto ancora in Challenge Chissà Magari Per Bilbao Dove ci sarà poi questo weekend A maggio Con la finale di Champions Di Challenge Di Continental Shield Potrebbe anche ravvivare un po' l'entusiasmo Sì la strada per Bilbao È bella lunga Però Però insomma La speranza Ci può essere Sicuramente Il pubblico anche Che c'era il battaglini Sabato È stato diciamo In linea con quello Delle precedenti partite De Rovigo in Europa Quindi il pubblico di Rovigo Almeno in questo inizio Di coppa Ha dimostrato di essere Un pochettino timido Però Una prestazione di questo tipo Un risultato di questo tipo Può insomma Anche Essere utile in questo senso Nel senso di Riportare un pochettino Di interesse anche Nel popolo rosso-blu Per questa Per questa coppa Anche perché lo stesso presidente De Rovigo Zambelli Aveva già Da un bel po' di settimane Ha cercato di tirare la volata A questa A questa manifestazione Dicendo di tenerci molto A fare bella figura Poi Sappiamo che ci sono in ballo Anche dei Dei premi Legati alla Vittoria di singole partite Che non c'erano in precedenza E quindi diciamo che Che non poteva iniziare Nel modo migliore Poi vedremo Vedremo già Nel primo derby stagionale Quali saranno Le reali Possibilità De Rovigo Di accedere al secondo turno Perché Passa la prima E anche la seconda Quindi insomma È da capire certo Prima di andare Sul Petrarca Di sabato Jacques Ci potrebbe Se vuoi Raccontare Quello che noi Non possiamo sapere Ora La prima cosa erano Gli spogliatoi L'altra è stata La festa Dopo la partita La cena Che avete fatto Voi e il Batumi insieme Sì sì È normale Per quando noi Giocare nel continente L'European Cup Per una cena insieme Anche quando noi Giocare di là Loro giocare qua C'è una cena insieme Per anche un regalo Per un'altra squadra Per il presidente Per il capitano E questa sera Con hotel Petrarca Mangiare molto bene Buonissimo cena E poi anche i Giorgiani Loro piace la festa Io ho visto Ballare Cantare No Una bella serata Dopo la partita Anche perché Loro ha perso Ma loro contento Perché Loro c'è una squadra Ma Come ti dice Enjoy the night Sì 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 Sono divertiti Sono divertiti Sera sì Hai cantato tu? No 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 Io non farei No 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 Non sai cantare No no Un po' di giovani La nostra squadra Sì Chi ha cantato dei nostri? Ricky Loro Ricky Loro? Sì ma È bravo cantare Lo mandiamo X Factor o no? Secondo me no No X Factor no Per Ricky Loro È meglio tenerlo qua da noi E abbiamo visto i cappelli quelli Sì con i Pecra Con i... Sì Per loro dice Ricordi In Giorgia Cioè questo è importante Per loro Anche una tradizione No un bella Ma i Pecra in grande È stata una bella serata Sì sì Una serata Insieme con il presidente Anche i fidanzati Tutti insieme Un bella serata E questo è il bello della Coppa Europea No? Socializzare Sì 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 Trovare nuove amicizie Sì sì Bene 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 Ci fa piacere Perché comunque è stimolante Anche da questo punto di vista Paolo Veniamo al derby Di sabato Abbiamo voltato pagina Vinta la prima Andiamo al plebiscito Dicevamo prima Insomma quando giochiamo col Petrarca Petrarca ci offre sempre Lo stadio migliore Della cittadina Del Santo Una partita che Sarà ovviamente Combattuta Sarà un derby Come la senti? Come la vedi? Diciamo che ci arriva meglio Rovigo Dal punto di vista della classifica Se guardiamo anche quello che è successo prima in campionato Diciamo che 50 e 50 è il classico Però guardando insomma come è andata la prima partita di Coppa Per il Petrarca non dico che è già un dentro e fuori però Tu parli proprio nell'economia della classifica Parlo nell'economia della classifica Della Coppa Petrarca ha preso solo un punto di bonus appunto nella prima partita Perdere anche la seconda vorrebbe dire già rinunciare anzitempo alle possibilità di passare il turno Rovigo è un po' più sereno da questo punto di vista perché comunque È l'unica squadra ricordiamo che ha preso cinque punti nella prima giornata Non c'è riuscito nessuno E si gioca però a Padova Vedremo Vedremo perché insomma Visti come sono andate anche le precedenti partite al plebiscito C'erano più tifosi del Rovigo rispetto a tifosi del Petrarca Quindi potrebbe essere un fattore che poi non va a incidere più di tanto Io la vedo una partita molto aperta E sono convinto che Che anche il Petrarca insomma Farà Giocherà magari Insomma ci sarà un pochettino di turnover come Come c'è stato nella prima partita Però sicuramente La formazione che schiererà marcato sarà Sarà molto molto competitiva Ci sarà un bel da fare insomma per il Rovigo Jac Secondo te I ragazzi del Petrarca Vorranno un po' rifarsi Hanno ancora la sconfitta in semifinale dell'anno scorso Ancora lì Vorranno dimostrare il loro valore Sì Secondo me i loro ricordi l'anno scorso Ma anche per noi C'è Coppa partita Ma per noi è un guerra Quando arriva contro Petrarca Sempre Non è dimenticato Coppa e l'exigenza Tutto L'importante è vinto Un'altra partita Perché è un derby match Un test match Come fa un sudafricano come te Che comunque è due anni e qualche giorno Che è qui a Rovigo A capire l'importanza di un derby A sentire proprio un derby come questo che storica Quando io arrivo anche il giocatore Rovigo Il giocatore e anche i tifosi Quando parlare con il rugby Con le partite più importanti Loro sempre iniziano con Petrarca Sempre Inizio io non ho capito bene Perché Petrarca Ma dopo Anche io Capisci Petrarca è una squadra forte È sempre un guerra contro noi E poi anche dentro me Io non sono un Come si dice Rovigo Sì sì Rovigo Sì Ma No tu lo sei Voglio che tu lo sei Sì sì Ma Io voglio giocare contro Petrarca Voglio vinto sempre Ma i giocatori dicimi Prima E la loro spasione Sì Certo Sì sì Accendi me Tipo come un fuoco Sì 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 Quindi sei contagiato Sei coinvolto Sì sì In questa In questa passione Beh è bello questo Paolo No? Che venga tramandata questa passione Non è che si faccia fatica Qui a Rovigo Coinvolgere le persone In questa sfida Però sì sicuramente Per chi viene da lontano Diciamo che ci sono stati Dei giocatori stranieri Che non l'hanno capita Così velocemente Come l'ha capita Jacques E per noi è un bene Insomma che ci siano In squadra giocatori forti E stranieri Che siano entrati subito In questa In quest'ottica Del derby E che lo affrontino Come lo affronta lui Insomma Che ci ha fatto vedere Jacques secondo te Quali saranno I punti chiave Della partita di sabato? Per me Per nostra squadra Dopo Battumi Importante Andiamo in questa strada Insieme Per come giocare Perché il secondo tempo Noi Cambiamo un po' Per non giocare in largo subito Ma più diretti Più fisicamente E poi dopo Larghi E poi dopo Circa il spazio Ma è importante di più La disciplina per la nostra squadra E poi i placaggi Perché noi Anche dice Questi due giorni di allenamento Importanti I basi I skills E questa Noi Se facciamo questo Perfetto Contro Padova Anche noi Possiamo vinto Perché I basi I skills Importanti Non c'è errore E disciplina E vinto le partite Facile Perché noi Noi c'è Abilità Per vinto Quando noi c'è Palla È così Partiamo dalle basi E piano piano Poi dopo andiamo E poi apriamo È questo Questo Paolo secondo te Secondo me Sono perfettamente D'accordo Però non bisogna Non bisogna Sbagliare l'approccio Alla partita Come è successo Nelle ultime due Perché magari regalare Regalare Un tempo Diciamo Agli avversari A questi avversari Come è successo Con i battumi Potrebbe essere fatale Insomma Abbiamo visto tutti Insomma Tre mette Troppo facili Subite nel primo tempo Come il battumi Insomma Concedere così tanto A una squadra Come il Petrarca Potrebbe poi Compromettere Un'eventuale Rimonta Nel secondo tempo Insomma Speriamo di non doverlo Fare ancora In un derby Insomma Perché è riuscita La ciambella La prima volta Non è detto che possa Che possa uscire Un'altra volta Sicuramente sarà Un bel confronto Tra i pacchetti di mischia Tra gli avanti E noi siamo comunque Sempre in attesa Che anche i nostri tre quarti Facciano i progressi Che stiamo aspettando Insomma E che piano piano Stanno venendo fuori Perché Anche nella partita Contro i Giorgiani Nel secondo tempo Tre mette Sono venute fuori Da giocatori Dei tre quarti Insomma Quindi vuol dire Che qualcosina Si inizia a muovere Se lo standard Di gioco Dei tre quarti Si allinea Con quello degli avanti Insomma Possiamo stare abbastanza Abbastanza tranquilli Speriamo insomma Che questi risultati Si inizino a vedere Già Già contro il Petrarca Ecco Jacke Lo standard Il livello Che abbiamo avuto Sabato Col Batumi Tu lo hai Visto Percepito Anche in questi giorni Con il allenamento Certo Si 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 Noi inizio ieri Anche oggi Perché noi preparare 100% Per Petrarca Ma Secondo me Due giorni Allenamento E E' buonissimo Ci siamo Si Tra l'altro Jacke diceva che la preparazione È perfetta È ottimale Per la sfida di sabato Ricordiamoci però Che domenica Allo stadio O meglio Al campo 1 Dello stadio Mario Battaglini Ci sarà anche la sfida Della 18 Elite Contro il Petrarca Per cui il campo 1 Apre il sipario Nei confronti Dei nostri ragazzi I nostri ragazzi Dell'Elite Che sfideranno i campioni D'Italia Perché il Petrarca è campione D'Italia Per cui se sabato La poter mettere il plebiscito Domenica Mattina Alle 11 Prima di pranzo Non si può Non sostenere i nostri ragazzi I nostri giovani Bersaglieri Già Tu prima hai detto Anche se io non sono rovigotto Io ti ho detto Tu sei rovigotto Perché un anno e cinque mesi fa Hai fatto questo movimento Che è un movimento che è storia per noi Sì Me lo racconti? Sì 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 Mai dimenticato Non posso dimenticato Raccontami un po' con l'emozione No è un grande partita Io ricordo di Battaglini Dopo la nostra smetta Ross McCann Io ho visto tutti Anche adesso c'è Come ti dico? Pelle d'oca Pelle d'oca Perché io ricordo E emozioni Emozioni Sì emozioni Tutti i tifosi Salta Tutti cantare No Un grande giorno Nella mia vita Io ho vinto anche in Sud Africa Due o tre campionato Ma Con Rvigo C'è passione Con i tifosi Con i giocatori E quando non hai vinto Dopo 23 anni No? Cioè È grandissimo Purtroppo erano 26 Però Va bene Cioè abbiamo vinto già Quindi è una cosa importante Poi comunque Anche sui social No? Tu poi quel giorno Oltre ad alzare la coppa Avevi anche una fasciatura Molto evidente Per cui sei passato Da giocatore A guerriero Quasi Insomma Il mito della giornata Come l'hai vissuta? Come l'hai sentita? Questo mi ricordo Anche Entrare Un Mulo Cioè Prendere un genocchio Contro la testa Ma È non importante È non importante Il corpo In questo momento Solo è importante Fermi Fermi Un altro giocatore Non posso Metta Tu dimenticato tutto Sempre penso Dove i giocatori Fermo Prendi Pala È È È È È È È Bellissima Bellissima Tra l'altro tu sui social Legandomi sempre ai suoi Facebook e quant'altro Una delle tue più grandi tifose È tua mamma No? Che scrive sempre È sempre attivissima No Mio madre Mio padre I miei tifosi top No Loro sempre Quando io inizio a giocare Cinque anni Quando io ho cinque anni È sempre con tutte le partite sull'Africa Quando io giocare Trecento Millecento chilometri a casa Loro vieni a guardare le partite sempre Noi Per Per voi È difficile Quando io Entrare in Italia A giocare qua Perché Loro solo posso guardare con i tv Con i streaming Certo E poi anche mio padre Perché Loro Voglio Un anno fa Vieni qua per guardare il finale Ma non posso In un settimana compare un biglietto Certo Ma no Loro i miei grandi tifosi Sempre Meno male che non capiscono quello che diciamo Quando c'è lo streaming Sempre dopo Ma cosa dici Loro Cos'è? Niente Niente Lo conosco Tra l'altro Per chiudere un po' questa parentesi Jack Mi ricordo che quando sei arrivato a Rovigo Ti abbiamo subito intervistato E ci hai detto che tu hai fatto una telefonata A un tuo ex allenatore delle giovanili Che qui è un mito Che è Nas Botta Sì 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 E cosa ti disse Botta quando l'hai chiamato? Ah no Quando io chiamo lui a parlare con Perché Io conosci Rovigo prima in Sudafrica Ma non conosci tutti gli italiani Tutti cosa E lui mi dice Vai Vai subito Perché è una bella vita Un grande stato La persona è brava sempre Vai di là È divertente E io dici Va bene Perché anche lui dice Rovigo Non c'è un'altra squadra come Rovigo dentro l'Italia E tu vai a Rovigo Migliore E io ho fiducia con lui E vado Aveva ragione? Sì Paolo Per noi è sempre bellissimo sentire questi racconti È bello sì Anche se in primavera abbiamo un po' tremato Perché Si era sparsa qualche voce Sul suo futuro Poi per fortuna È ancora È ancora qua È restato con noi È ancora qua È e resterà sempre il capitano dello Scudetto Quell'immagine di lui col volto pieno di sangue È un po' diventata l'immagine simbolo di quella stagione Noi rimproveriamo ancora oggi il nostro fotografo Perché era Come Gazzettino Sì esatto Perché in quel momento era in una parte Nella parte opposta del campo Non è riuscito a Immortalare In quel momento però Ci sta È sfortuna però insomma È un'immagine che rimane Rimarrà negli occhi di tutti Le caratteristiche di Giacca sono Proprio le caratteristiche che un tifoso del Rovigo vuole Sei d'accordo con me? Sì lui Mi ricordo ancora il primo giorno quando è venuto Che si è presentato Dicendo Io sono un giocatore A cui piace Giocare in mischia Stare in mischia E poi i fatti insomma Hanno confermato questo In mischia è un gladiatore Magari nel gioco aperto Confermamelo tu Non sei tanto evidente Sì no Però ci sei sempre Insomma Mi piace di più fisicamente Dentro Scram e breakdown Sì Sicuramente mischia i punti d'incontro Sono il punto forte di Giacca Un'altra domanda Da sudafricano Visto che comunque da quest'anno Come saprete un po' tutti O come sanno gli appassionati di rugby La Celtic League è diventata Pro 14 Con l'inserimento di due squadre sudafricane Dalle quali ci si aspettava un po' di più È un po' una sorpresa che stiano faticando così tanto Sì Anche per me Perché io Spero In prima partita Magari I Cheetahs e Kings Forte Come Super 18 Ma Io sento anche perché Io conosci Un po' i giocatori in Sudafrica Giocare per i Cheetahs Per i Kings È È una confusione Perché dopo i Super 18 Tutti i giocatori Vai con un'altra squadra Metta in squadra i Kings Vai con un'altra squadra Dentro Sudafrica Perché i Kings Quando giocare i Curry Cup Come eccellenza in Italia Non vogliono giocare per i Kings Per i Curry Cup E poi Loro Mai Non lo sapevano Prima Sì 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 E poi In squadra Non c'è i giocatori prima E Sono squadre nuove Sì Anche giovani C'è giovani E io penso Magari Dopo il primo anno I giocatori Dentro Sudafrica Anche lo sai Loro Giocare in Europa E tutti i giocatori Vogliono Vai con i Cheetahs E i Kings E il secondo anno Loro più forte Quindi È un anno Di ambientamento Per capire Come è Come è Sì sì Ma anche noi Visto i Cheetahs Giocare contro Le squadre dentro Sudafrica Perché quando giocare In Sudafrica È È Tempo C'è Differente Italia Perché anche i Cheetahs C'è seco e area C'è un po' alto Ma È cambio E i Cheetahs vinto In Sudafrica Ma Io spero Quando i Cheetahs Viene qua Per un'altra partita Loro È più forte Quindi sei fiducioso Sì 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 Ma anche secondo me Il secondo anno Di più Di più Paolo il tuo punto di vista Sì Sicuramente Per Per le due squadre Sudafricane È una grossa novità Per cui ci sta Che ci voglia Un pochettino di tempo Insomma Per ambientarsi Un torneo Completamente nuovo Poi Tenendo conto Anche dei tempi Con cui è maturata Insomma Questa nuova formula Molto stretti Io sono d'accordo con lui Magari Il meglio Dalle due squadre Sudafricane Lo vedremo Nella seconda parte Di questa stagione O nella prossima Insomma Con tutte le perplessità Che comunque Rimangono attorno A questo A questo torneo Insomma Che È una cozzaglia Insomma di squadre Che vengono un po' Da tutte le parti Insomma Penso sia legittimo Avere insomma Qualche dubbio Sulla Non dico sull'utilità Di questo torneo Però sulla logica Che muove Che muove tutto Che sta alla base Ecco Jack Sentendo quello che dice Paolo Qual è La reputazione Qual è L'idea Che un giocatore Sudafricano ha Dell'Italia Quindi parlo Della tua esperienza Qui E in generale In questo caso Dei tuoi colleghi Dei Cheaters E dei Kings Affrontare Comunque Un'avventura europea Sì sì Secondo me Per il rugby Quando ti hanno detto Vai in Italia Sì Tolto il pensiero di botta Sì Tu cosa pensavi dell'Italia Adesso Sì No Quando inizio È un po' strano Perché Non ho capito l'italiano Tanti roba Anche i rugby Quando giocare Il rugby è differente E bisogna un po' di tempo Per cambiare la tua testa Perché Come Come italiani Giocare E come loro pensano Perché loro pensano Differente L'idea Per il rugby Differente Ma Un esempio Un esempio Tipo In Italia Per me I giocatori vogliono giocare di più Fare di più Individual Skills Tipo Lascia parlare per lui Lui corre Vai finta Calci magari In giroafrica È più struttura Tu fai questo lavoro E sempre questo lavoro Mai cambio Sempre questo lavoro E questo tuo lavoro Tu sei un 10 Tu calci così Tu corre così Tu sei un allenatore Più specifica Ma In Italia è un po' differente C'è un po' Spazio Per giocare Come vuoi Tipo Ma Bisogna tempo per cambio In testa E Secondo te Quando hai i tuoi colleghi I sudafricani Dei Kings e i Cheaters Hanno detto Quest'anno Giochiamo in Europa Cosa hanno pensato? Poteva essere una bella esperienza Per loro? Sì Per me Per loro Un grande opportunità Perché In Zulafrica C'è un po' il problema Con i rugby Tutti le persone Viste come Zulafricani Giocare I Springboks Giocare un settimana E poi Un'altra settimana E poi per me È una grande opportunità Per i giocatori Perché quando loro giocare qua Contro l'europeo Squadra Un'altra squadra Visto i giocatori Giocatori Zulafrica Magari prendi dopo Un mercato Sì Per me è una bella opportunità Comunque in Europa Si guadagna di più rispetto in Sudafrica Sì Sì Anche di più saldi Onestamente Sì E poi per il rugby Con l'inverno inizio Strano per Sudafrica Perché dentro Sudafrica Non c'è Non c'è pioggia Non bagnato E qua c'è bagnato C'è funga Con i terra E poi Nebbia Nebbia E poi Loro anche cambio Come giocare Per l'inverno Interessante Paolo siamo in chiusura Hai una domanda a fare a Jacques Visto che ce l'abbiamo qui Allora la prima che mi viene in mente Ricordando sempre i suoi primi giorni da Rovigotto E tu ti sei presentato qua Dicendo che la tua avventura italiana Era legata anche a un tuo sogno Che era quello di Arrivare magari a essere utile Per la nazionale italiana Ce l'hai ancora questa ambizione Questo sogno? Sì Sì Questo è il mio ultimo anno Per Come noi C'è tre anni giocare dentro l'Italia E poi dopo E posso E Ancora voglio Ancora Tutti la roba Questo anno io voglio lavoro di più Magari ho visto il mio Due o tre partita Non giocare come Come l'anno scorso Perché Adesso io Provo Di più Ma Adesso vai con calma C'è un'altra anno Per giocare Ma sì Uguale Goal Come si dice L'obiettivo? Sì Giustamente Sì 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 Ottimo Allora siamo in chiusura Abbiamo detto tempo scaduto per noi Abbiamo detto della 18 Elite Quindi domenica ore 11 Campo 1 stadio Mario Battaglini Anticipato dal derby in continental shield Allo stadio plebiscito di Padova Ovviamente con i nostri bersaglieri che affrontano il Petrarca Tra l'altro da oggi pomeriggio è partita una bellissima manifestazione Dai Pianieri al primo scudetto È praticamente in piazza Matteotti a Rovigo Fino a martedì prossimo 24 C'è questa mostra organizzata da Mondovale Che metterà alla luce Presenterà dei documenti praticamente inediti Sugli inizi del rugby a Rovigo Per cui è assolutamente un punto È un passaggio da prendere in considerazione Nell'ottobre Rodigino Che comunque si presta anche a passeggiate E a momenti più ludici Questa è una mostra organizzata a Montovale Molto molto interessante Da prendere in considerazione Nei vostri programmi di tempo libero Grazie Jack per essere stato con noi Grazie Paolo grazie mille Grazie mille a te Grazie Jack Grazie Tre appuntamenti Sabato plebiscito Domenica qui al Battaglini E poi ovviamente la mostra Dai Pianieri al primo scudetto Buonanotte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti